Ben ritrovati sul canale interamente dedicato al mondo del calcio femminile. Tutto in mutato nel campionato di Serie B dopo la quattordicesima giornata del girone d'andata, penultimo turno della prima fase del campionato alla vigilia di un altro match di grandissima importanza che caratterizzerà la prossima tornata di campionato, ma ne parleremo tra poco. Tutti in mutato perché vincono tutte le squadre favorite, le prime in classifica, vincono le tre capoclassifiche, Lazio, Ternana e Parma, vince il Cesena, vincono anche le inseguitrici. Partiamo dal risultato più ampio, quello della Lazio, che batte 7-0 il Ravenna al termine di una partita dominata dall'inizio alla fine. Erano i vertici della classifica che si affrontavano da una parte la Lazio in vetta, dall'altra Ravenna unica squadra senza ancora vittorie in questa stagione. Ne esce una goleada che si sottolinea con tre gol di Noemi Visentini, Bello il secondo di rapina su un errore del portiere romagnolo, molto più bello addirittura il terzo con una gran conclusione dai limiti dell'area di rigore al termine di un'azione personale. Da sottolineare anche l'ottavo gol stagionale di Moraca che conquista e trasforma un calcio di rigore. Vittoria netta in trasferta anche per il Parma, 3-0 sul campo del Chievo, un campo fino a questo punto mai facile. Parma che si porta in vantaggio, conferma il proprio vantaggio nel secondo tempo con una prestazione a tutto tondo, molto ampia. Bello il secondo gol firmato da Di Luzio al secondo centro con il Parma, l'attaccante appena arrivata dal Como. Tra l'altro un gol molto spettacolare, marcato addirittura con una sforbiciata da terra in precarie condizioni di equilibrio. Molto più combattuta la vittoria invece del Ternana sul Pavia, un buon Pavia che riesce nel primo tempo a rispondere al doppio vantaggio della formazione Ternana. Il provvisorio pareggio è di Codeca, un Pavia assolutamente in partita ma decisamente sontuosa la partita della Ternana anche nel corso del secondo tempo. La formazione Umbra si concede anche il lusso di sbagliare un calcio di rigore con Tui che aveva marcato il gol del vantaggio. Da sottolineare proprio dopo questo primo gol è la dedica della formazione delle fere alla compagna di squadra Camilla Labata che si è gravemente infortunata lo scorso turno di campionato nel big match contro la Lazio. Vincono anche le inseguitrici, netta la vittoria del Cesena, una vittoria in casa sul campo amico contro l'Arezzo che arrivava da un'ottima fase stagionale. vince il Verona che va in trasferta a dominare la scena sul campo del Bologna, una bella partita anche qui molto equilibrata con una rete del Bologna che rimette in discussione il risultato nel corso del secondo tempo ma che di fatto il Verona non corre mai il rischio di perdere. vince anche il Genoa 3-0 contro il Freedom Cuneo grazie a una doppietta della solita Bargi, sempre in grande evidenza. Per quanto riguarda invece la fase bassa della classifica da sottolineare la sconfitta del San Marino Academy in casa contro il Brescia 4-2 ma soprattutto il pareggio 2-2 tra il Tavagnaco e il Res Roma. Tavagnaco in doppio vantaggio nel primo tempo, rimontata e raggiunta nella ripresa in una classifica che adesso vede ancora le due squadre nella zona medio-bassa della classifica. Guai soprattutto per il Tavagnaco che si trova al penultimo posto in classifica. Dicevamo della prossima giornata, una quindicesima giornata sicuramente molto interessante con un paio di scontri importanti, uno assolutamente di cartello e quello che vedrà di fronte al Tardini, Parma e Lazio, le due prime in classifica. Uno scontro che di fatto diventa di estremo interesse per il Cesena che punta a raggranellare altri punti rispetto alla vetta della classifica ma diventa soprattutto di estremo interesse per la Ternana che con un risultato favorevole in questa sfida, in questo scontro diretto, potrebbe domenica sera ritrovarsi addirittura da sola al vertice della classifica. Grazie per la visione!